In quest'opera, Kukoschka rappresenta le proprie inquietudini in una rappresentazione dell'infanzia del tutto inconsueta. Un po' come nelle mie opere. Ti piacerebbe? Kukoschka descrive l'allegria e la spensieratezza dei bambini, turbate da un senso di smarrimento e di melanconia. L'espressionismo! Diciamo che negli anni in cui si diffondevano le opere dell'art nouveau, nacque in Germania una nuova corrente artistica, degno di nota nella sua vita e anche Clint, che abbiamo trattato in un altro video. In questi anni si percepisce il profondo senso di ribellione verso la società e il desiderio di liberarsi da tutte le formalità che impedivano di manifestare liberamente la propria personalità. Se a questo pensiero ci aggiungiamo il pessimismo e l'angoscia della vita umana, abbiamo completato il quadro. Viva la vita!